E' opportuno questo incontro, secondo lei? Ha incontrato il Papa, dai, non scherziamo. Allora, al 57 giorno di guerra abbiamo deciso di partire da Orban, dal neo-eletto presidente ungherese in visita a Roma. Prima dal Papa e poi da Salvini. Simon Malpezi c'è una simbologia? No. No, assolutamente. Il Papa fa bene a incontrare tutti. A me fa un po', non dico impressione, però in un momento in cui noi abbiamo bisogno indubbiamente di più Europa e di meno sovranismi, ecco, questo incontro rappresenta forse l'antitesi di quello di cui l'Europa ha bisogno oggi. Il concetto vecchio la vedo abbastanza agguerrita, Simon Malpezi, oggi. Buonasera. Buonasera. Il concetto vecchio ha scritto questo libro, Un amore partigiano, che noi vi presentiamo a pochi giorni dal 25 aprile, non per caso è la storia di Iole Mancini. Ti dico la verità, noi ieri abbiamo fatto vedere una pillola di Iole Mancini, un personaggio straordinario, nata nel 1920, partigiana, lei è il marito. Ed è una storia, diciamo, con un epilogo a sorpresa, no? Sì, un epilogo che nemmeno io mi aspettavo. Va bene. E quindi... Che per esempio, Simon Malpezi, che non ha letto... Non ce lo vuole raccontare, sto cercando. Cercheremo di capirlo. Intanto, Annalisa Cuzzogrea, grazie, collegata da Torino, vice direttrice della stampa, come stai? Bene, bene, benissimo. Che dici di questa visita di Orban? C'era Luca Piras, che è qui con me, che questa mattina diceva facciamo, che volevi fare, Urbi e Orban. Sì, volevo fare questo titolo, lo so, io mi assumo le mie responsabilità. Scusami, Annalisa. Le hai viste queste immagini? Io rupo per la stampa. Lo puoi usare. Io rupo il cielo, per la stampa. Lo puoi usare. Che dici di questo incontro? 40 minuti con il Papa, e poi non so quanto, sinceramente, con Salvini. Vabbè... Ancora non abbiamo calcolati bene. Sai, che dico, Salvini ha avuto un po' di fortuna, no? Lui si è dato questa nuova veste di pacifista rispetto a questa guerra. Noi, lo dicevamo, ce lo ricordavamo, che imbracciava armi e che faceva e perorava la causa della legittima difesa. Sempre e comunque legittima. Aveva anche inchieste di Repubblica sulle lobby delle armi che hanno finanziato un pezzo della sua campagna elettorale. E poi invece adesso ha una nuova veste. In questa nuova veste, Orbán, che incontra il Papa, gli fa molto comodo. Salvini, insieme a Giorgia Meloni, ha esultato per la riconferma di Vittorio Orbán. È Orbán. Un po' di più di Giorgia Meloni, forse, no? Un po' di più di Giorgia Meloni. Infatti bisogna capire se questo ricevimento che ci sarà stasera Giorgia Meloni va oppure no. Cioè bisogna capire se anche in Italia il cosiddetto fronte di Visegrad si è un po' diviso. Perché Orbán ha una posizione diversa rispetto a quella della Polonia, no? Rispetto alla Russia. È accidenti. Orbán è filoputiniano, insomma, più degli altri. Possiamo dire che è molto più vicino alla Russia e quindi Salvini ha buon gioco ad arrivare lì dopo che il Papa comunque ha lodato Orbán per quello che ha fatto nei confronti... Allora, lasciami presentare ancora Enrico Franceschini che è collegato da Londra con noi. Enrico, come stai? Ben trovato, finalmente. Vi devo rivelare una cosa. Enrico è sostanzialmente il maestro degli spiegoni di Repubblica. Cioè tutti i suoi pezzi sui social prima, ma soprattutto sul sito e poi sul giornale sono tra i più letti. Il record di cliccaggio digitale dei pezzi di Enrico perché riesce a spiegare le cose. Oggi ti chiederò molte cose, Enrico. Ti chiederò di Biden, ti chiederò di Putin che decide di annullare quest'ordine per radere a zero, l'acciaieria di Mariupol, una città che più o meno è caduta e molto altro. Però nel frattempo Filippo, Filippo Ceccarelli, collegato anche lui, da casa tua, no? Buonasera. Dalla tua storica libreria, dal tuo archivio, per parlarci di questa vertigine appunto Urbi e Orban, di questa vertigine che oggi abbiamo visto a Roma con l'arrivo del leader Maggiaro che è anche, diciamo, abbastanza fieramente filo putiniano. Ma io ho pensato a, diciamo, Francesco e il lupo, dove la belva può identificarsi in Orban che è ormai riconosciuto campione del sovranismo europeo, come si diceva, ma soprattutto alleato di Putin in una guerra nel cuore dell'Europa. Ecco, e qui bisogna un po' intendersi, perché quando entra in ballo la Santa Sede, la politica come la, come la leggiamo noi, è la diplomazia, si intrecciano sia con il momento, proprio con la contingenza, sia con interessi che sono di natura storica e anche spirituale, persino spirituale. Per cui domenica è la Pasqua ortodossa e quindi si cerca una tregua, si cerca una tregua di le armi. E sempre domenica, invece più a casa nostra, si tiene la marcia Perugia Assisi, la città di Onsanto, San Francesco, che oltre al lupo di Gubbio cercò di, insomma, mosse, si mosse e andò addirittura a trattare, a negoziare, a parlare con il sultano, quindi sia pure con, diciamo, risultati non proprio smagliati, ma insomma lo fece. Ecco, il punto vero è che con questa visita alla Chiesa di Roma si conferma il suo universalismo, tanto più conclamato quanto convinto che la pace si fa con i nemici e non con gli amici. Cioè parlando con i rupi. E beh, insomma, con gli amici la pace è inutile, non serve a niente, è facile, è troppo facile. Per cui in questo senso Francesco l'avrà ringraziato a Orban perché ha accolto dei profughi che erano ucraini e avrà accolto l'occasione, io non stavo lì dentro, insomma, ha accolto l'occasione per spingerlo ad accettare anche quegli altri di profughi, no? Che invece sembra che siano una cosa proprio incompatibile con l'Ungheria, no? E in nome di quella che si chiama convivenza pacifica e che noi conosciamo anche, diciamo, nei rapporti che esistono in ogni paese occidentale con gli immigrati. Quindi, insomma, si parla di cose che stanno dentro il nostro mondo. Salvini, lasciatemi dire, Salvini è il meno. Salvini è stato tutto. C'aveva l'orecchino, era comunista padano, poi è stato... Vero, scusami, nel 2013-2014, quando noi facevamo i primi dibattiti e c'era Simona Malpezzi e veniva invitato anche Salvini, Salvini aveva l'orecchino e diceva di essere comunista padano. Questo è... Sì, sì, andava, no, prima ancora ai centri sociali, Lio Cavallo, eccetera, poi dopo è diventato indipendentista, ha fatto il... Poi è diventato sovranista, dalla secessione, metteva le corone all'oro nel Piave, il fiume sacro della patria, prima gli italiani, poi dopo recentemente è diventato europeista e di recente anche papista. Io credo che in Vaticano questo loro lo sappiano e quindi gli danno il peso che gli danno. Mentre invece, ecco, Francesco è, secondo me, l'unico leader che ha la statura, l'autorità e soprattutto la coscienza pulita per porsi come leader mondiale della pace. Orban è solo un assaggio, un negoziato con il blocco asiatico totalitario, insomma, la Cina e la Russia, ecco. Le visioni sono... Il tavolo di Francesco è un po' più largo di quello di Salvini. Per cui, più che il lupo, in realtà il pontefice, che peraltro è argentino, quindi fuori dalle vede europee, e cerca di ammanzire l'orso, l'orso russo. E' certo, l'orso russo. E' l'animale totemico con cui da tempo immemorabile si identifica. Questi sono dei fotomontaggi e non fatevi trarre troppo un inganno. Però, insomma, il senso è evidente. In realtà, spesso, il partito di Putin, Russia Unita, c'ha il simbolo dell'orso. C'ha il simbolo dell'orso, come no? Per capirsi. E' a Putin che guarda Papa Francesco. La storia e l'icolografia della Chiesa è piena di miracoli e di santi, soprattutto eremiti, che ammanziscono gli orsi. San Martino, San Romedio, San Corbiniano e San Colombano, San Cerbone, San Gallo, Santa Colomba di Sens, che stava per essere violentata in un anfiteatro e viene salvato invece dalla Belva. E' santi, santi, fa un stimo. C'è Luca Pilas che ha fatto una collezione con la litania. Santi e orsi. Che parla con il Sergio e il Serafino. E quindi, insomma, ce ne stanno talmente tanti da far quasi pensare che io non voglio fare sembra come una litania. Però, ecco, per concludere, ci sono momenti della storia in cui è necessario avere santi in paradiso. questo, secondo me, è uno di quelli e evidentemente in Vaticano devono aver fatto, non voglio dire un calcolo, ma una riflessione di questo. Grazie a Filippo Ceccarelli. Riccardo, la nostra sigla? Solo la sigla, se ce l'hai. Che dici? Che stai dicendo? E c'è che gioca in un altro campionato. Vabbè, un campionato di un bestiario, insomma, non indifferente. Lupi, Papi, A me gioca in un altro campionato, sicuramente. Scusami, allora, Annalisa, poi ti lascio andare perché devi fare il giornale per domani. Cioè, devi chiudere. Oggi sì. Oggi sì. Mi dici se, insomma, intanto a Roma, appunto, il Papa si muove, da una parte, dall'altra parte si muove anche Salvini, qualcosa si muove a destra, qualcosa si muove persino sui 5 Stelle, c'è Grillo che è sceso a Roma, c'è Conte che ieri ha detto che, tra, Macron e Le Pen, boh, chi lo sa, saprebbe chi scegliere. Insomma, voi su cosa aprite domani sulla politica? Rispetto alla guerra si muovono molte cose, non te lo dico con cosa apriamo. No, lui non ci vuole svelare la fine del suo libro, tu, vabbè, ma sinceramente siamo ancora molto, molto concentrati sull'Ucraina, su quello che sta succedendo a Mariupol, su questa resa. Indubbiamente. Adesso ci arriviamo. Però tu dici, la guerra smuove molto le acque della politica italiana. La politica, hai ragione, si stanno muovendo delle cose, si stanno muovendo delle cose in che senso? Salvini, questa posizione più aperta nei confronti della Russia, comunque la sta mantenendo, e questo incontro con Orbán non fa che dimostrarlo. Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, c'è un pezzo di Movimento 5 Stelle dentro il Parlamento, che si sta muovendo per fare una mozione, per dire, vabbè, basta con questa guerra, basta armi all'Ucraina, c'è tutto, ci sono dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che pensano che l'Ucraina debba dare la Crimea al Donbass e magari anche Mariupol e la Russia, chiuderla lì, perché noi abbiamo anche un po' paura che questa cosa ci costi i condizionatori. e c'è però, al di là di questi che possiamo considerare degli estremi della politica, c'è invece qualcosa che sta fermo, l'immagine di ieri, nonostante il dovere istituzionale, lascia perdere tutte le ragioni, ma l'immagine di ieri del Ministro dell'Economia, Daniele Franco, che al G20, a differenza della Segretaria del Tesoro americana, Yellen, non si è alzato quando parlava il Ministro russo delle finanze, qualcosa ha detto, così come dice molto il fatto che stanno andando molti leader europei in Ucraina, e Mario Draghi non va a Kiev. Andrebbe no? Andrebbe fatta quasi una litania dei leader europei che vanno a Kiev. E' una passerella, magari anche una scelta di stile non andare, però è vero, e questa è una cosa che noi sappiamo e dobbiamo dirci con schiettezza, che l'Italia e la Germania sono i paesi che più di tutti dipendono dal punto di vista energetico e quindi economico dalla Russia e dal gas russo. Io penso che ci sia però una differenza, cioè che l'Italia si stia dimostrando più coraggiosa, ad esempio chiede un tetto al prezzo del gas, cosa che la Germania non vuole mettere. Quindi stiamo un passetto avanti, però che nella politica, così come nella percezione di tutti noi, ci sia anche una stanchezza di fronte a tutti i problemi che questa guerra pone. Ecco, questo secondo me comincia a vedersi. E' una cosa che, se ti ricordi, abbiamo pensato subito, no? Quando abbiamo visto quel voto, che i partiti annassiamo con l'Ucraina, ci siamo detti subito, mi ricordo benissimo che avevamo studiato insieme, ma durerà? Ma durerà questo fronte compatto? Le armi da una parte, dall'altra parte i profughi di guerra, quanto tempo passerà? Prima che cominciano a dire, però sono tanti. Eh, però sono tanti, è però quanto dobbiamo stanziare, è però come si fa? Anche se questa cosa si sta un po' risolvendo da sola, nel senso che moltissimi ucraini, avete visto e lo avete raccontato voi stessi, vogliono tornare, tornano con ancora la guerra, non aspettando che la guerra finisca, ma mentre ancora la guerra infuria. Dal punto di vista economico, i cedimenti ci sono già, li hanno dimostrati i partiti in questi giorni, e sicuramente ci saranno nelle prossime settimane. Va bene, grazie mille, grazie ad Annalisa. Grazie a voi. E quindi, scusami, concetto, nel frattempo ci stiamo avvicinando a tappe forzate a questo 25 aprile. E insomma, un 25 aprile di resistenza, tu sei andato anche al congresso dell'Ampi, a Riccione, un mese fa, un po' di più. Fine marzo era. E lì, secondo me, nel frattempo, sono cambiate delle cose, perché in quel congresso l'Ampi... Cioè, se la guerra, diciamo, scuote le acque della politica italiana, passa anche questo scuotimento di acque dall'Associazione Nazionale Partigiani. Sì, e dentro la sinistra, perché io penso che per la prima volta... Non guardare me, guarda Simona Malpezzi. Questo 25 aprile la sinistra va divisa ed è un fatto abbastanza nuovo ed è una, come dire, una divisione anche drammatica, perché in passato avevamo avuto le divisioni... Il 25 aprile negli ultimi vent'anni è stato divisivo in Italia, c'erano dei presidenti del Consiglio... C'era un presidente del Consiglio che si chiama Berlusconi che diceva che lui non ci andava. Esatto, che non ci andava. Salvini, la destra, non riconoscevano questo appuntamento. e adesso invece, come dire, questa divisione è dentro la sinistra ed è, secondo me, una divisione che peserà nel prosuro. Tra l'altro, la cosa poi interessante è che al suo interno anche l'Ampi, secondo me, ci sono opposioni molto... Però non formalmente... C'è il presidente Pagliarulo che ha, come dire, dei precedenti un po' filorussi che viene contestato però dalla base dell'Ampi. Quindi, non prezzi la domanda che le fa concetto, non il concetto, è la sinistra, a questo 25 aprile, arriva divisa oppure no? Meno di quanto si immagini oppure no? A me hanno colpito molto le parole che ha detto l'altro giorno Liliana Segre, quando ha ricordato Bella Ciao e ha detto che sostanzialmente è come se fosse quasi il canto che anche gli ucraini stessi possono fare in questo momento. perché una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E questo è quello che loro hanno vissuto. Quindi, di fondo, se noi pensiamo che il 25 aprile ha come sua canzone di fondo questa, forse il 25 aprile, è oggi l'occasione anche per ricordarsi che noi non possiamo stare dalla parte di chi ha aggredito. e chi è stato aggredito deve essere difeso senza sé e senza ma. E quindi, quando si celebra questo 25 aprile, si deve celebrare anche in questa direzione. Con lo spirito dello stare tutti nella stessa piazza, io penso che lo spirito debba essere proprio questo. Ricordandoci che c'è un paese che in questo momento è occupato, stanno cercando di occuparlo. Ci sono delle città che sono sotto i bombardamenti e non sappiamo ancora che cosa succederà a Mario. Ma c'è una parte dell'Italia che dice però queste armi le mandiamo. Ricorda la prima Annalisa Cuzzocrea, c'è una parte dei 5 Stelle che diceva ma insomma finiamola lì, diamogli il Donbass e chiudiamo la partita. C'è un discorso anche di democrazia e di libertà. Noi possiamo consentire che passi il messaggio che qualcuno attraverso la forza possa sovvertire l'ordine interno di un paese in cui esiste una democrazia, in cui c'è un presidente democraticamente elettorato possiamo pensare che questa cosa possa esistere. Io penso che non possa essere accettato e che quindi il messaggio debba essere chiaro. Non ci possono essere i distingui o il fatto di dire beh sì però insomma se gli ucraini vengono armati il conflitto va avanti. Per ora sta andando avanti la resistenza e dire che sta andando avanti la resistenza significa dire che si vuole dare uno spazio alla libertà. Noi dovremmo essere da quella parte perché è l'Europa è l'Europa. Lei dice bella ciao dovrebbe diventare insomma l'inno non solo del 25 aprile ma anche di questa Europa in fase di guerra. Mi sono svegliato e ho trovato il partito di giorno inizia questa trasmissione dicendo a quale giorno di guerra siamo e quando noi torniamo indietro a 57 giorni fa noi sappiamo che quella mattina gli ucraini si sono svegliati e tutto ad un tratto la loro vita è cambiata perché qualcun altro voleva dire loro che quella terra non era più loro non era più come loro se l'erano immaginata non andava bene la scelta anche politica che loro hanno fatto e ci doveva essere altro. Questo e dovremmo ricordarci io che ho i contatti con tante famiglie ucraine che non sono solo in Italia che si sono anche trasferite in altre parti d'Europa e che sono state accolte mi sono sentita dire da questa che una professoressa di una delle università diceva io ero a casa mia avevo la mia casa avevo il mio lavoro avevo la mia famiglia oggi mi ritrovo in un altro paese senza casa e con due sacchetti di plastica perché quelli erano i contenitori nei quali era riuscita a mettere le sue cose ma abbiamo dei dubbi sul fatto di voler dire che siamo tutti dalla parte di chi è stato costretto a scappare e che oggi non ha più niente e non dobbiamo avere stamattina mi sono svegliato il 24 febbraio anzi la mattina il 25 febbraio perché mi sembra il 24 notte ora voi non lo sapete ma Luca Piers è anche tra le molte cose il critico musicale di Affosto se non sbaglio quindi tu sai tutto di Bella Ciao come inno adottabile dall'Europa ieri c'era qui ospite letta il segretario del suo partito che diceva dovremmo fare una confederazione europea magari l'inno potrebbe essere Bella Ciao come nasce? beh Bella Ciao è il canto popolare ma quello che cioè diventato un canto popolare è il canto della resistenza però quello che ti volevo dire è che Liliana Segre sostanzialmente su Bella Ciao è riuscita a tagliare la testa non al toro ma all'equidistanza perché sostanzialmente se Liliana Segre che è un po' simbolo anche a cui ci siamo affezionati tutti noi dice che Bella Ciao è il canto anche del popolo ucraino non può esistere un'equidistanza sulla discussione della resistenza se non è riuscita a fare chiarezza Lampi forse su questo punto anche perché Bella Ciao dice contro l'invasore e qui l'invasore è uno se vogliamo fare una breve analisi del testo va bene breve analisi del testo Iole Mancini e il concetto vecchio un amore partigiano a proposito di Bella Ciao è tardi? no 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 io non mi mandi via no no adesso parliamo di partigiani dunque Iole Mancini è una partigiana che oggi ha 102 anni è nata nel 1920 diciamo due anni prima rispetto alla marcia su Roma addirittura e e tu l'hai intervistata per un anno insomma questo libro è scritto in realtà effettivamente a quattro mani no? sì è una storia secondo me molto interessante di una donna che di una donna semplice era lei una sarta che conosce quest'uomo Ernesto Borghesi che era un medico che poi diventerà un gappista attenterà alla vita del figlio di Mussolini verrà arrestato e la resistenza per lei è una prova di maturazione civile politica è una prova anche come dire di conoscenza di sé di emancipazione e quello che io ho trovato molto interessante in questa storia è raccontare questi due ragazzi come si conoscono come si conoscono negli anni 30 le aspettative di vita che avevano in quel momento lì due ragazzi di di 20 anni e poi arriva la guerra e cambia le carte in tavola arrivano i nazisti le cambia ancora e quindi devo dire sono sfuggiti entrambi più volte alla morte e questo rende anche questa vicenda romanzesca Viole Mancini Santerini l'ha intervistata alcuni giorni fa vi facciamo sentire una pillola no Luca un estratto di questa lunga intervista Viole suo marito Ernesto era un partigiano ha combattuto contro i nazifascisti certo ha preso parte a tanti attenzati col gruppo dei cap ha fatto anche lei delle azioni io trasportavo le armi con una sporca la borsa della spesa e le nascondevo con verdure stracci me li consegnava il tale portiere di quel palazzo che io non sapevo il nome a piedi riondi bicicletta e consegnare questo palco ma se incappavo non blocco anche solo con i volantini si fuggivano lì al momento coraggiosissima il coraggio uno ce l'ha come diceva Manzoni ma ti arriva sai che devi combattere con ogni mezzo combattere con ogni mezzo Enrico Enrico Franceschini eccoci a Londra allora a proposito dei mezzi a proposito delle armi di quelle che mandiamo noi in Ucraina di quelle che mandano gli americani poco fa ha parlato il presidente Biden che ha detto di essere pronto come dire alla resistenza ha detto Putin non vincerà e non ci sono neanche tante prove che Mariupol sia realmente caduta che cosa sta succedendo oggi al 57esimo giorno di guerra ci puoi fare una mini spiegone insomma sì beh sta succedendo che sì Mariupol è praticamente caduta tranne questa acciaieria in cui sono serragliati i rivestenti ucraini ma sul resto del fronte non hanno sfondato i russi hanno avanzato in due o tre cittadine del Donbass ma per adesso non hanno ancora sfondato non si capisce se perché non ci hanno provato fino in fondo ben quando ce ne sono stati parecchi o perché gli ucraini resistono e quindi insomma Biden dice daremmo loro abbastanza armi per resistere sai Gerardo tutto il dibattito appunto che c'è stato anche in Italia per tutto armi difensive sia armi offensive c'è poco da distinguere quando ti attaccano con razzi missili cararmati aerei non è che puoi dare soltanto uno scudo per difenderti devi dare anche elicotteri mortai bazooka armi per reagire altrimenti non hai speranza mi ricordo che prima della guerra prima di quel 24 febbraio proprio Zelensky disse beh c'è arrivata una fornitura di 5.000 elmetti elmetti da guerra da parte della Germania ecco gli elmetti ci siamo resi conto immediatamente che non bastavano nel frattempo però ti chiedo di restare ancora qualche minuto con noi Enrico la nostra copertina abbiamo deciso di chiamare questa puntata di Metropolis ricatti e riscatti ricatti perché perché in realtà Putin oggi lo vedrete tra poco propone un vero e proprio ricatto a chi è assediato nella acciaieria di Asovstalla a Mariupol e riscatti perché invece chi sta dentro l'acciaieria cerca di uscire e chiede in qualche modo all'Europa di essere riscattato copertina e poi e poi il nostro Gianluca Di Feo e i suoi sentieri di guerra l'acciaieria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi in un incontro con il ministro di difesa Putin ha di fatto sancito la conquista della città. Resta soltanto la fabbrica, la fabbrica della Azovstal dove continua la resistenza, ma è molto interessante leggere il dialogo tra Putin e il suo ministro della difesa, dove Putin ha bloccato l'ordine di assalto alla fabbrica. E ha detto, considero inappropriata la proposta di assalto alla zona industriale, ti ordino di cancellare. Dobbiamo pensare a preservare la vita e la salute dei nostri soldati ufficiali. Blocca questa zona industriale in modo che non possano lasciarla. Il ministro ha annuito. Ora, al di fuori della retorica che è sopravvissuta la traduzione di Google, la realtà è che i soldati ucraini intrappolati in questa fabbrica non possono più compie razioni offensive. La loro resistenza non è in grado di influire sulle operazioni e, allo stesso tempo, come ha sottolineato persino Putin, entrare e conquistare quel dedalo, quel labirinto di strutture d'acciaio, di tunnel sotterranei, richiederebbe perdite molto ingenti. L'attenzione sulle perdite è sempre più forte nei discorsi del creminino e lo testimoniano anche alcune scelte. Ad esempio, oggi hanno annunciato che un maggiore generale, comandante delle forze aerotrasportate, è stato sostituito da un colonnello che si è dimostrato eroe nelle prime fasi del conflitto. Quindi hanno sostituito un ufficiale da scrivania con quello che, nelle prime giornate di combattimento, si è mostrato capace di occupare da solo un ponte e difendere i suoi uomini fino all'ultimo. Cosa significa? È l'ennesimo segnale della volontà di correggere gli errori commessi e di procedere in modo diverso. Qui sul campo, dove c'è quella che è l'offensiva russa, che finora è un'offensiva abbastanza piccola e che avanza di un peso al giorno, ma avanza in modo terrificante dopo aver distrutto completamente gli edifici lungo le strade, in modo tale che da questi edifici non possano arrivare imboscate. E questo ci dimostra come i russi procederanno, continueranno ad attaccare, continueranno ad avanzare, ma lentamente risparmiando le forze e logorando quelle degli ucraini. Lo scenario è uno scenario da seconda guerra mondiale, da Stalingrado, uno scenario sanguinoso e che richiederà molto tempo. Sì, non è un caso, Malpezzi, che questo sia uno scenario da seconda guerra mondiale. Anche le immagini di quel tavolo, cioè di Putin con Shoigu, il suo ministro della difesa, fanno impressione quando lui dicevi ordino. Fanno impressione, lasciano quasi senza parole e sembra anche la recita però di un copione, come è stato fin dall'inizio. Putin ha sempre avuto la necessità però proprio di raccontarsi, quasi perché c'è sempre il tentativo di una narrazione che non corrisponda poi alla realtà dei fatti. Noi sappiamo che c'è tutta una narrazione particolare che Putin sta portando avanti, dalla denazificazione dell'Ucraina, quelle parole anche molto forti e che continuano a impartare. E queste immagini non possono lasciarci indifferenti, perché sono lontani anni luce dal nostro concetto che abbiamo di democrazia, di rapporti. Decine di anni indietro, è come tornare all'Unione Sovietica forse in qualche modo. O alla Grande Russia di cui lui ha quell'immagine. Scusami Luca, su questo, se andiamo a rivedere questa immagine di questo tavolo, questa volta il tavolo è piccolo, non so se sia fatto da mobiliere di Cantù. Sì, non era il tavolo italiano, esatto, quello dove all'inizio, prima dell'invasione, venivano accolti i leader europei come ad esempio Macron, però ci sono dei particolari. Alcuni dettagli da guardare, a proposito dell'immagine. Iniziamo da Putin che tiene il tavolo in qualche modo, non so se lì sotto ha un pulsante per eliminare la persona con cui sta conversando. Per tutto il tempo. Per tutto il tempo è attaccato lì. Però vediamo, ecco qua, diciamo, sta sudando abbastanza freddo. Shoigu, il ministro della difesa che era scomparso, ti ricordi il concetto per qualche settimana. E poi? Questa è secondo me la mia preferita, perché vediamo Shoigu seduto in pizzeddu, come si dice in sardo. Non rilassatissimo, diciamo. Diciamo che non è una posizione comoda, sia fisicamente che evidentemente mentalmente. Stava un po' soffrendo il ministro, non so se poi lo rivedremo. Anche Shoigu è un nome. È un nome un po' da quarto, da provincia di Cagliari, forse come cognome. Va bene. Allora, questa è, diciamo, è lo stato dei fatti, no Enrico? A un certo punto c'è un comandante in capo che si veste della sua divisa, si mette là, insomma, una divisa ovviamente ideale, e dice io vi ordino di sospendere questo assalto. Perché lo fa? Veramente per, diciamo, tutelare i suoi uomini? Oppure, e poi dice, guardate che se vi arrendete avrete salva la vita. Veramente sembra medievo. Enrico, aiutami. Sì, sembra medievo per dire qualcosa più vicino a noi. Sembra Stalin, sembra uno zar, sembra Ivan il Terribile. Ha ragione la parlamentare del PD che parlava prima. Buona malvezza. che è lui che comanda. Quindi forse già questo è un segnale interessante che poi qualcosa che non va in Russia c'è. E poi, sì, appunto, come dicevate voi, Shogu sembra sicuramente a disagio, ma Putin dà l'ordine di non attaccare anche per un altro motivo, oltre a quello giustissimo che diceva il nostro vice direttore sul fatto, il timore di avere delle perdite. Un altro è quello che questa acciaieria, loro se la vogliono tenere, non la vogliono distruggere, pensando di potersi tenere questo corridoio fra il Donbass e la Crimea anche dopo la guerra, è una importantissima fabbrica, la vogliono tenere. E quindi dicono, non deve uscire di lì una mosca, ha detto letteralmente Putin. Non deve uscire una mosca. E è una cosa anche questa crudele, li vogliono prendere per fame, per sete. È veramente come un tiranno orientale, quasi come Genkis Khan, che invadeva la Russia e faceva strage di uomini. E a proposito di questo, se si guarda ancora più da vicino quella immagine, in realtà c'è l'aquila imperiale dei Romano sullo stemma. Vediamo sempre Shoigu, però non per parlare di lui, ma vedere questo oggetto sulla scrivania di Putin, verde, dove c'è l'aquila. Quello è uno scrittoio, è simile a quello che ha la nostra Simona Malpezzi davanti, che fa parte dell'arredamento. Non è russo quello che era Malpezzi davanti. Non è russo, questo era di un ministero italiano negli anni 70, però è uno scrittoio. Però anche la simbologia di Putin è importante, non sarà un caso che in bella vista c'è, c'è questo simbolo dei Romano, sempre un richiamo alla madre patria russa. Possiamo vedere Putin e la bambina, intanto saluto, saluto, grazie Simona Malpezzi. Ce l'abbiamo Luca? Sì, lo vediamo. Sì, lo vediamo. che dici? Putin a differenza di un leader occidentale non deve fare i conti con la pubblica opinione o meglio li fa in maniera diversa la strunca sul nasce questa è la differenza tra Putin e noi e questa guerra drammaticamente è anche una guerra in cui si scontrano due opposti valori due opposti visioni del mondo perché questo non va dimenticato è anche questo però scusami concetto la domanda è sempre la stessa vale per te e vale anche per Enrico che ci ascolta da Londra noi questo Putin fino a due mesi fa a molti di noi magari non a me e a te e a Enrico però stava persino simpatico cioè non lo abbiamo visto arrivare così stava simpatico a buona parte stava simpatico a buona parte però c'è chi ci faceva affari adesso al di là del gas per cui oggi poi Di Maio sta battendo l'Africa per cercare di trovare via alternative stava simpatico a buona parte della destra italiana e a una fetta di populisti dopo di che io penso questo poi in Germania i socialdemocratici hanno fatto gli affari col gas pensiamo Schröder è quella generazione lì Schröder è ex cancelliere tedesco io penso che lì entra in Gazprom diventa consulente di Gazprom io penso che l'Occidente confusamente era convinto di poter imbrigliare Putin nel gioco il grande gioco della globalizzazione cioè facendo fare gli affari dentro il gioco del capitalismo era anche un modo per addomesticarlo per farlo entrare dentro l'Occidente era un modo per tenerlo a bada anche psicologicamente in realtà questa cosa non ha funzionato e lì probabilmente le ragioni io non le so ce lo dirà la storia però da questo punto di vista probabilmente in questo ragionamento non si è tenuto abbastanza conto della geopolitica e della storia russa perché forse come sempre nella storia c'è anche un elemento irrazionale imponderabile e Putin è molto anche quell'aspetto lì però scusami Enrico ma questo elemento irrazionale imponderabile che noi misuriamo qui nel dibattito persino nel Nenne sul 25 aprile è una parte dell'AMP il suo presidente che a un certo punto si schiera contro le armi agli ucraini per la resistenza ucraina che è un po' paradossale ma comunque ci sta e ognuno è libero di dire la sua negli altri paesi per esempio in Inghilterra c'è qualcosa del genere c'è un dibattito di questo tipo? non mi sembra non mi sembra che ci sia mi pare che conservatori e laboristi governi opposizione e qui come anche in altri paesi siano abbastanza uniti nel dire che bisogna dare le armi che bisogna aiutare in tutti i modi possibili secondo me in Italia questo dibattito è più forte in parte per le simpatie populistiche della destra a cui aveva accennato prima concetto per Putin che esistevano già da prima e in parte per quel residuo di anti-americanismo che rimane in una fetta della sinistra italiana e per cui la Nato viene percepita come un oggetto così imperialista e guerrafondaio e militarista cioè si dice dare armi andare lì è militarismo no non è militarismo è volere salvare un bambino che viene aggredito da un orco ecco però c'è questo secondo me c'è anche questo elemento che invece in Inghilterra non c'è questo anti-americano infatti vai vai secondo me questa posizione rivela molto della storia italiana della storia politica italiana anche del carattere la forte radicalizzazione il forte ideologismo che ha connaturato il dopoguerra italiano questo è sicuramente un aspetto e che viene fuori diciamo con le radici ex sovietiche sono dei residui che sono rimasti l'altra cosa secondo me è anche l'aspetto populistico cioè siamo un paese dove di forti risentimenti che ci sono sempre stati che nella prima repubblica venivano tenute a bada che poi in qualche modo alla fine della seconda sono esplosi e anche questo è un aspetto peculiare della nostra storia che incide in questo umore e infine c'è un terzo elemento che viene sottovalutato ma che viene che c'è una pancia e lo dicono anche i sondaggi del paese che ritiene che noi dobbiamo starne fuori che questa cosa in qualche modo è un pericolo è un pericolo che condizionerà la nostra economia la nostra vita per noi perché dobbiamo mischiare vogliamo stare diciamo essere lasciati in pace è una maggioranza silenziosa che esprime questo sentimento bravo c'è una maggioranza silenziosa che in realtà preferirebbe essere lasciata in pace preferirebbe non vederla questa guerra anche perché poi viene dopo due anni di pandemia e invece guardate che cosa vi facciamo vedere i miliziani ceceni Luca cioè i miliziani di Kadirov quelli più aggressivi quelli che hanno giurato di liberare Mariupol e ci stanno riuscendo forse ci sono riusciti oggi Biden ha detto no ma insomma vedremo che 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 ballano ballano e sparano in aria sembra quasi un videogioco che andava molto di moda qualche anno fa si chiama Portman esatto vediamo eccole queste sono dietro le quinte più o meno della guerra della guerra la cosa che senza i social probabilmente non riusciremmo non riusciremmo a vedere non è una guerra di cannoni ma è una guerra anche di di balli e di profughi anche in Italia perché vedo Gabriele il nostro Gabriele eccoci qua allora Gabriele Rizzardi Gabriele Rizzardi questa mattina si è svegliato presto e è andato davanti alla ambasciata d'Ucraina a Roma via Guido d'Arezzo e si è fatto dare questo foglio questo foglio è sostanzialmente Gabriele correggimi se sbaglio lo status notifica lo status di rifugiato politico degli ucraini in Italia è vero? esattamente Gerardo ci troviamo davanti al portone del consolato al consolato che adesso è chiuso sì certo che questa sera è chiuso però questa mattina alle nove quando siamo venuti per raccogliere le testimonianze e per parlare ho parlato anche con una signora che fuggiva da un paese distrutto dai bombardamenti era accerchiato di decine e decine di ucraini che cercano un documento che gli possa dare un minimo di serenità perché se tu non hai questo documento scusami non hai neanche lo status di rifugiato se tu non metti qui la tua foto non firmi e non hai questo certificato in tasca non hai neanche la protezione di rifugiato esattamente esattamente abbiamo parlato con questo giovane console Maxim Roch che è nato a Dorek un paese alle porte di Kiev 39 anni e mi ha detto che qui vengono in media 150 persone al giorno non fanno scusa quanti sono ad oggi i rifugiati ucraini in Italia più o meno la stima ufficiale parla di 100.000 però il console mi ha detto che almeno è il triplo cioè quindi sono 300.000 ho capito 300.000 di queste di si vai 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 tranquillo di questi fogli ne sono stati dati finora dal 3 marzo 1500 a Roma 1500 al consolato di Napoli e ben 10.000 al consolato di Milano dove c'è il più alto numero di profughi e ovviamente vai 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 pure tranquillo no dicevo per esempio qui arrivano anche genitori che hanno il bambino senza passaporto in quel caso certo perché si fugge non ti porti dietro magari tutti i documenti non riesci a prendere va bene ho capito e loro trascrivono i dati anagrafici del piccolo su uno dei passaporti del genitore fermati fermati per un attimo scusami Enrico e tutto questo per esempio l'ondata di profughi in Inghilterra a Londra è intensa come da noi di meno visto che c'è un Johnson sostanzialmente diciamo le cose come stanno poi il concetto che è forse il più attivo dei leader diciamo del vecchio continente non uso la parola europeo perché c'è la Brexit però insomma l'altro giorno si è fatto una passeggiata con Zelensky no Enrico si è fatto una passeggiata con Zelensky a piazza Maidan Johnson un po' lo fa anche per vecchio trucco di distrarre con la politica estera dai suoi problemi di politica interna i suoi parti illegali durante il lockdown che potrebbero costargli anche le dimissioni già è vero però scusami non è solo perché se ci pensi ieri c'è stato un a lungo atteso dibattito Le Pen Macron è anche lì l'argomento poi alla fine di rimente sono state le come dire scappatelle ideologiche della Le Pen sul fronte russo appunto della destra italiana no? quindi dicevi sì no dicevo queste scappatelle qua non ci sono il punto dei profughi qua ne sono arrivati di meno c'è una grande solidarietà da parte della popolazione ma ne sono arrivati di meno e ci sono state anche un po' di polemiche perché non ci sono state porte aperte facilitazioni come in Italia l'Italia è il paese che aveva più comunità ucraina in tutta Europa prima della guerra e oggi che ha più profughi quindi in questo abbiamo una medaglia da metterci sul petto un segno così di solidarietà forse diciamola anche abbiamo avuto tanti ucraini nel nostro paese tante badanti ucraini che venivano a aiutare i nostri genitori i nostri nonni i nostri cari c'è una rete è vera c'è stata un'ondata di affetto così come c'era prima al tempo dell'incidente di Cernobile ancora tanti bambini ucraini che venivano in Italia a curarsi dopo quella tragedia e c'è anche in Inghilterra immagino questa diciamo rete antica che è stata rispolverata c'è anche in Inghilterra ma meno che da noi da questo punto di vista meno che da noi va bene nel frattempo succede che ad esempio tutti gli oligarchi russi comincino oggettivamente ad avere problemi con le sanzioni che vengono imposte oggi c'è la storia della Lucoil si dimette l'amministratore delegato sostanzialmente la Lucoil insieme a Gazprom è una delle grandi aziende energetiche abbiamo appunto Di Maio e Cingolani che battono l'Africa è un po' tardivo secondo te questa ricerca la ricerca del gas perduto beh col senno di poi sicuramente lì è stato fatto un errore abbiamo dato troppa fiducia a Putin noi i tedeschi soprattutto col senno di poi è stato un errore drammatico ecco te lo chiedevo perché cosa ci costa tutto questo probabilmente ha un prezzo Luca e noi abbiamo chiesto di quantificare questo prezzo annunzio bevi l'acqua esatto perché oggi sono andato lo ricordiamo di Maio e Cingolani in missione perché ci sarebbe dovuto andare Draghi che però è risultato positivo al covid io non so se poi Draghi si fida della coppia Cingolani intanto scusa vedo vedo che si è collegato Francesco Semprini aspetta no no prima sentiamo bevi l'acqua e poi scusami Francesco intanto dove sei dammi una introduzione Nicolae sempre Nicolae non ti sei spostato però hai cambiato albergo non sei nello stesso posto di ieri non sono sono in un altro posto perché dobbiamo fare un lavoro quindi mi sono dovuto venire qua con i militari per una cosa che dobbiamo fare domani va bene non ti chiedo che cosa intanto bevi l'acqua e poi andiamo Nicolae oggi ci troviamo di fronte ad un momento importante della nostra storia energetica per quanto riguarda il gas ci troviamo costretti a fare i conti con degli errori che abbiamo commesso nel recente e medio passato errori di non sicuramente diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ancora maggiormente di non diversificare gli interlocutori da cui approvvigionarci energeticamente questo è l'errore che abbiamo fatto con la Russia sicuramente molto più facile è stato contrattare con un unico interlocutore perché è più semplice a livello negoziale ma come quando si dipende da un unico interlocutore questo può fare il buono e il cattivo tempo così è stato oggi bene le attività negoziali e diplomatiche che si stanno attivando su tutto quanto anche il Nordafrica il bacino mediterraneo e anche il Nordafrica certamente non potremo attenderci una situazione dove si andrà a supplire completamente al plafond di approvvigionamento russo perché sarà sicuramente da una parte necessario contrattare con più interlocutori per arrivare alla soglia del nostro fabbisogno dall'altro dovremo anche scontare il fatto che il non esserci avviati prima a contrattare ed avere delle fonti di emergenza nei casi di chiusura del rubinetto ci porterà oggi a delle contrattazioni meno facili e sicuramente meno a buon prezzo di quelle che sarebbero state attivate un anno fa quindi anche gli stessi gli stessi paesi che ci andranno a sostituire in parte l'approvvigionamento oggi ovviamente considerano il loro bene di maggior valore cioè ci costerà comunque e sempre concetto un po' di più di quanto pagavamo prima appunto quando facciamo finta di non vedere cosa ci fosse dall'altra parte nel frattempo Francesco Semprini che cosa c'è in queste ore su quel fronte lì tra est e ovest ce lo sta facendo capire allora ieri eri nella tua stanza d'albergo oggi più o meno dove sei non ho capito vedo una parete di legno sono sempre amicolati ci siamo incontrati con dei militari per una cosa che dobbiamo fare domani per motivi di sicurezza ci dicono sempre di non dire cosa e dove è perché insomma ad esempio siamo andati verso Carston che è questa città che si trova nella parte suboriente del paese rispetto a qui è distante una tantina di chilometri diciamo però a 35 chilometri c'è la linea del fronte e la cosa interessante è che Carston è un'altra di quelle città dove è comparso ne parlavamo ieri la bandiera con la falce cioè in vista di queste celebrazioni ma anche lì è totalmente sotto controllo dei russi è stata la bandiera della vittoria nella grande guerra la bandiera ex sovietica quella con la falce e il martello per intenderci scusami Francesco ti fermo per un attimo anche perché non prende più benissimo come ieri mi sa che le reti americane che sorvolano a Mikolaev le reti diciamo di Elon Musk funzionano un pochino meno oggi perché in realtà succede il concetto che a Mariupol il nuovo sindaco messo dai russi abbia detto noi il 9 maggio la giornata della vittoria delle forze armate ex sovietiche della seconda guerra mondiale contro il nazismo noi vogliamo fare una marcia della vittoria a Mariupol è così Francesco? sì esattamente e messo dai russi quindi è stata questa non so se mi sentite se mi sono si ti sentiamo ti sentiamo poco però insomma l'importante scusami Francesco è che questa è una guerra e quindi è evidente che appunto l'appuntamento con Francesco che in realtà doveva essere 20 minuti fa saltato ci siamo preoccupati alla fine siamo riusciti a recuperarlo non possiamo neanche chiedergli che cosa farà dove andrà e che cosa scriverà poi per domani sulla stampa l'unica cosa Francesco ti chiedo rivediamoci domani magari un po' prima in apertura se ci riesci sempre se ci riesci sì 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 assolutamente stiamo molto attenti stiamo molto 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 in campagna domani potrete leggere un bel racconto sulla stampa a metà tra guerra e fede vi dico solo questo vi lascio con questo è vero perché in fondo siamo partiti siamo partiti dal Papa proprio dal Papa va bene questo era Metropolis l'appuntamento a domani con Francesco Francesco domani apri tu alle 18 in punto va bene apri domani grazie 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 a tutti.